Un confronto, una sfida pubblica davanti a tutti gli italiani non sulla legge etorale ma sulla vita concreta, sulle proposte economiche, sul lavoro, sulle tasse, sulle pensioni. Le proposte della Lega sono chiare, aliquota fiscale unica al 15%, superamento degli studi di settore, rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 300 euro, superamento della legge Fornero. Sono tutte proposte supportate dai numeri. Se il coniglio Renzi la smette di scappare e comincia a confrontarsi sulle proposte, sui numeri, sul lavoro e sulle pensioni, noi siamo a disposizione degli italiani anche domani mattina.